A quanto pare è tornato il sereno tra Silvia e Salvatore, i fidanzati protagonisti dell'ultima puntata dalla 500 alla 1 c'è posta per te. Dopo che la ragazza ha chiuso la busta, i due si sono riconciliati. O così pare da un indizio apparso sul profilo Facebook della napoletana. Nel suo status sentimentale Silvia ha chiaramente scritto fidanzata ufficialmente. C'è addirittura la data, dal 17 settembre 2011. Dunque non si tratta di un nuovo amore bensì del legame con Salvatore, con il quale la storia va avanti da tempo. Nessuna informazione sul profilo del ragazzo, il giovane si è momentaneamente cancellato dai social network. Molto probabilmente non ha retto alle critiche e dei telespettatori che, dopo ogni puntata del programma di Maria De Filippi, corrono sul web a cercare informazioni sui protagonisti. L'indizio su Facebook parla chiaro, Silvia ha perdonato Salvatore. Del resto la ragazza ha chiuso la busta a c'è posta per te con una certa titubanza. Per ora non ce la faccio, poi si vedrà a sussurrato a Maria De Filippi. Dalla scoperta del tradimento alla registrazione, avvenuta la scorsa estate, erano passati solo due mesi. Ora, col tempo, la situazione sembra essere migliorata e Silvia ha avuto la forza di perdonare il fidanzato storico nonché suo futuro marito. E sì, perché prima di scoprire il tradimento di Salvatore, la coppia stava organizzando il matrimonio a Napoli. Un peccato per i fan del programma che, nella serata di ieri, hanno chiesto a gran voce la partecipazione di Silvia a uomini e donne. La bellezza e il carattere della campana hanno colpito molto il pubblico, desideroso di rivederla di nuovo in tv. Ma Silvia alla fine ha scelto l'amore, quello di Salvatore.